Alconade di Montecchio Alconade di Montecchio Competenze e servizio non hanno prezzo Laura e Marco ti aspettano presso lo showroom a Rio Salso di Tavuglia Macchini ceramiche sempre al vostro servizio Oh, I keep dancing with mine Cercando di trasformare il nostro presente nel futuro che vorremmo Buonasera a tutti cari amici di Insieme a Canestro Vi siamo mancati? Riprendiamo il filo interrotto il 21 dicembre Ne sono successe di cose in queste settimane Dicevamo prima della trasmissione anche che da quando abbiamo interrotto Insieme a Canestro la VL non ha più vinto Speriamo quindi di portare fortuna tornando Intanto vi diamo il benvenuto a questa trasmissione fortunata Giunta ormai alla quarta stagione Potete seguirci come sempre in diretta sul canale 80 di Rossini TV Che è visibile in tutta la regione Sulla nostra pagina Facebook E poi anche in streaming sulla nostra app Che vi invitiamo a scaricare E infine anche sul sito internet di Rossini TV Come sempre i nostri sponsor ci appoggiano in questa trasmissione Li ringraziamo con Ad Montecchio, Macchini Ceramiche e Banca di Pesaro E adesso passo a presentarvi gli ospiti di questa sera Quale miglior serata per avere come ospite questa sera La guardia della Carpegna Prosciutto, Octavio Maretto Reduce dall'esordio in quintetto base Quindi non potevamo non averlo questa sera Siamo molto felici, lo conosceremo meglio E poi insieme a lui invece un veterano Che però ha molte similitudini con Octavio Per come magari è cominciata la sua carriera Ed è con noi Fabrizio Bicio Facenda Ex Capitano della VL Buonasera a tutti Benvenuto Bicio Sono molto veramente felicissimi di averti qui Perché sappiamo che tu sei brillante E quindi questa sera siamo sicuri che ci divertiremo Sono contento E adesso passo la parola a Giovanni Zid Anche quest'anno sarà lui A indicarvi come mettervi in contatto con noi Per porre le domande E anche rispondere al contest che lanceremo fra poco E che mette in paglio come sempre Due biglietti per la prossima partita Quindi per domenica 21 gennaio Chi non vorrebbe essere a vedere la partita contro l'Armani Milano Quindi a chi risponde per primo Andranno i due biglietti Ti passo la palla Buonasera, buonasera a tutti gli ospiti in studio Buonasera ai telespettatori che ci seguono Intanto buon anno Buon 2024 Ero in vacanza 20 giorni Ho fatto e tutti i giorni guardavo con il telefono L'applicazione di Rossini TV Quindi scaricatele e guardateci in diretta Buonasera a tutti Due biglietti Anche questa sera in paglio per la partita Alle ore 18.30 per domenica Contro l'Olimpia Milano E vi ricordo come sempre 370-366-72-10 In quale stagione? Vogliamo sapere Bicio Facenda Oggi il nostro ospite qui in studio È stato capitano della WL sponsorizzata Scavolini Spa Vogliamo sapere quindi l'annata della stagione Scusa Betta Volevo ricordare che la Carpegna Prosciutto Pesaro Ha comunicato che sono acquistabili Biglietti per assistere al match di domenica Acquistabili presso WL Pro di Sport Online su Viva Ticket Tutti i punti vendita Viva Ticket O presso la biglietteria alle ore 16.30 domenica L'ultima cosa Vi informiamo che domani Venerdì 19 gennaio alle ore 10.30 In diretta sulla pagina Facebook Della Victoria Liberta Spesaro La conferenza stampa di Mel Sacchetti Benissimo Allora entriamo nel vivo della trasmissione Poi Octavio parleremo un po' anche di te Però adesso come sempre Noi come diciamo Prima parte della trasmissione Dedicata alla partita che è stata appena giocata Siamo reduci da questa sconfitta Napoli Onestamente con l'esordio di Mel Sacchetti in panchina Forse speravamo in qualcosa di più In effetti la squadra aveva cominciato veramente bene 13 minuti alla pari Anzi addirittura in vantaggio al tredicesimo 29 a 28 Abbiamo tutti sperato che fosse davvero cambiato qualcosa Poi cos'è successo? Prima di tutto buonasera a tutti Grazie dell'invito Sì i primi 10-15 minuti li abbiamo fatto molto bene Siamo stati lì in una partita che sembrava punto a punto Poi abbiamo fatto C'è iniziato a fare fatica su certe situazioni Sia in difesa sia in attacco Contro una squadra così Di questo livello Che riesce a sfruttare questi vantaggi Abbiamo preso dei break E quindi abbiamo sofferto su questo punto Senti tra l'altro Napoli è una squadra offensivamente di grandissimo talento Quindi è bastato perderli di vista per un attimo E poi dopo se la difesa non tiene È difficile recuperare Sì purtroppo in questo livello Più con le squadre di alta classifica Come in questo caso Napoli In questo momento di alta classifica È così Li perdi un secondo E possono prendere un vantaggio lungo Biccio ti coinvolgo Perché magari con la tua esperienza Cerchiamo di capire Qual è il difetto di questa squadra E cercare di analizzarlo È dall'inizio dell'anno che la VL subisce All'improvviso questi break pazzeschi A volte senza riuscire a segnare nemmeno un punto Sono stati anche i break di 21-0 Mi ricordo 16-0 13-0 Sono momenti in cui si perde completamente la scia dell'avversario E spesso anche la fiducia Secondo te da cosa può dipendere? È complesso perché diciamo che anche le squadre più attrezzate Più organizzate O che magari giocano da più tempo insieme Che si conoscono un po' meglio Hanno dei momenti Questi loop temporali Non lo saprei come dire Tutti li subiamo O magari sulle ali dell'entusiasmo Se a pari dopo 15 minuti Napoli inizia a aprire le danze Inizia a fare canestro Dopo fai fatica Sbagli due tiri Non riesci a fare una difesa E dopo Quelli che hanno le bocche da fuoco E riescono a sparare velocemente Prendono vantaggio In quei momenti secondo me Per quel poco che posso dire Perché le situazioni sono tante e varie Sicuramente ci sono un insieme di tantissime cose Che vanno a cambiare l'andamento della partita Però in quei momenti Una cosa importante è cercare di focalizzare Che magari senza farsi prendere dall'ansia O prendere un tiro che magari sei aperto Però magari non è il momento di spingere Perché è meglio fare uno schema Andare a cercare il nostro Magari giocatore che ha vantaggio Contro il loro specifico difensore del quintetto avversario Magari due o tre volte di fila Anche se non riesci a raggiungere magari un canestro O comunque riesci ad attaccare continuamente Col tuo uomo in quel momento Che può essere il tuo punto di forza Rimetti un po' gli equilibri Magari per non prendere continui break Perché se poi insegui la partita a quel ritmo Gli altri segnano tu sbagli Gli altri segnano tu sbagli È un corrietira sbagliato Che ti cattura Ti prende e non ci esci più Poi magari una parola tira l'altra Uno fa un tiro perché non ha tirato tre minuti Tanto siamo tutti giocatori Siamo tutti bambini che seguono il pallone Ed è la cosa più importante Però in quel momento Che ci arrivi l'allenatore O uno dei leader della squadra in campo Che sia il capitano o non il capitano Comunque è una persona importante Una figura di carisma all'interno della squadra Nella quale dice Cerchiamo di giocare il pallone Tre, quattro volte consecutivamente lì Perché magari interrompiamo la striscia positiva Degli avversari Perché abbiamo dei punti di forza Ecco, la cosa più semplice che mi viene in mente Cercare di inseguire in quei momenti di difficoltà Quelli che sono i nostri punti di forza Cercare di coinvolgere il più possibile I giocatori della nostra squadra Anche se ovviamente le difese avversarie Sono già tutte organizzate, preparate E come dicevo prima Ad Ottavio fuori onda Secondo me la cosa più importante Quando hai fatto bene queste cose È sperare che poi anche i ragazzi Che ci sono Che si fanno trovare pronti Che magari un giocatore viene raddoppiato Si fa uscire una palla Magari è una scelta difensiva Però in quel momento Se la fai uscire al momento giusto C'è fiducia E la squadra continua a lottare Si raggiunge E magari piano piano Andando avanti Fra un mese o due Riusciamo ad averne meno Di questi black out E riusciamo magari Infatti la domanda era Se si può guarire Da un difetto del genere Ma Certamente Sicuramente Sacchetti saprà benissimo Cosa deve fare Per cercare di cambiare Un pochettino Questi ritmi Come dire pazzi Come dire Perché tanto quando lo fai tu È bello Perché no Ti galvanizzi Però ovviamente In questo periodo La Scavolini La VL sta prendendo Un pochettino Fiducia E sta facendo la conoscenza Con tutti questi nuovi innesti Con questo periodo Sfortunato Perché comunque Sia la squadra Fatta da un buon gruppo Sono tutti ragazzi Che secondo me Hanno voglia E secondo me Hanno anche La conoscenza Della città Nella quale sono venuti a giocare Perciò non sono qui A voler per forza Non riuscire nelle cose O fare le figuracce Diciamola tutta Sono ragazzi che Hanno bisogno di tempo Che sicuramente Ancora un pochettino Gli servirà Ma sono fiducioso Perciò le cose Possono cambiare Sicuramente gli innesti Della società Aiuteranno Perché tanto Che ci siano Innesti di Societari A livello tecnico Come l'allenatore O livello tattico Per la squadra Perché metti dentro energie Metti dentro fisicità Oppure giocatori Che hanno veramente qualcosa Da portare Più ne hai Più ne arrivano Di rinforzi Meglio è Perché comunque sia Più siamo Possiamo essere intercambiabili Periodi up Perché fino adesso Probabilmente Come tu dicevi prima Andare dal tuo punto di forza Che fino adesso Non è stato molto chiaro Chi era il punto di forza Cioè avrebbe dovuto essere Bamford Ovviamente Ma ha avuto sempre Un po' di problemi Fisici E poi Era sempre raddoppiato Perché Gli altri Non facevano anche anesto Per cui è stato difficile Anche per lui Riuscire a essere Quel leader Che forse si sperava Adesso Tornando in campo Scott Probabilmente Potrebbe essere lui O Mike Duffy Di cui parleremo dopo Magari la Prima punta Diciamo Chiamiamolo così Sicuramente Ci saranno nuove opzioni Anche per vedere Magari Oppure sarà stato il periodo Magari Avrà un periodo Di forma Che arriverà Fra qualche tempo E magari Riusciremo a vedere Anche scelte più lucide Durante il raddoppio O anche prima che arrivino Perché tanto Quando sei un giocatore Di questo livello Sei in campo La società Chi collabora Ti organizza Meglio che puoi Perlomeno A questo livello Sono tutti Molto ben organizzati La società Sicuramente fa un grande Lavoro Di preparazione Della partita Che siano Videotecnici Work through Eccetera Sul campo Penso che sia Una cosa normale Dovuta Magari adesso Questi giocatori Iniziano a capire Sono il punto di fuoco Magari anche lui Non l'aveva capito Che poteva essere Il punto di riferimento Anche per tutte le difese Adesso ci sono altre persone Magari facciamo girare la palla Riusciamo a Ricoinvolgere anche loro Fuori dai raddoppi Per essere meno prevedibili E per essere meno prevedibili E' importante avere tante opzioni E domenica Un'opzione Con grande nostro piacere E' stato Vedere Octavio Non solo in quintetto Ma anche alla prima palla Che gli è andato Boom Ha messo la bomba Quindi è stato piacevo Adesso lo vediamo qua Eccolo qua Senza paura Era libero Ha tirato Ha fatto canestro E' così che si deve fare Anche quando uno ha 19 anni Senti Octavio Quando hai saputo Che saresti partito in quintetto? Allora E' stata una situazione Un po' divertente Perché noi ogni mattina Del giorno della partita Facciamo un piccolo allenamento In cui facciamo tiro E guardiamo un po' La nostra difesa Quindi ci sono sempre due squadre Che sarebbe quella che Titolare E quella che Che va in panchina E quindi io Come il solito Non è che guardavo molto I colori e tutto Ero lì Pronto a fare allenamento E a un certo punto I miei compagni Mi iniziano a fare le batute A dire Eh perché adesso Vai in quintetto Così E quindi mi ritrovo Che mi giro E inizio a vedere un po' E giustamente ero Del colore Del quintetto titolare E lì ho saputo E niente Te l'aspettavi? Non me l'aspettavo Sinceramente Che cosa ti ha detto Coach Sacchetti Prima di entrare in campo? Insomma Le ultime raccomandazioni? Di stare tranquillo E giocare come so E non avere paura Soprattutto E questo Un paio di volte Me l'hanno detto Se ho la palla Devo tirare Tirare Senza paura Quindi Non mi sembri uno Che ha molta paura Ti avevamo già visto Giocare con Loreto L'anno scorso Insomma La faccia tosta Non ti manca Senti Biccio Tu quanti anni avevi Quando hai esordito Dopo le giovanili? Dopo le giovanili Nelle giovanili Ho esordito Con la Scavolini Di Bianchini Facciamo la Coraz C'era Walter Magnifico Ario Costa Peri Riva Dell'Agnello Quanti anni avevi? 18 18 Io Panichi Maggioli Gaeta C'era Calbini Beh insomma Bel settore giovanile Era una discreta squadra Infatti Abbiamo perso Per andare nel Final Four Con Limoges Che poi vinse La Coppa Coraz C'era Young Altri tempi Comunque ero giovane Ti hanno buttato in campo Così all'improvviso? Sì e poi Non me l'aspettavo Perché Non mi ricordo esattamente Adesso mi sembra Che era in Grecia La prima volta Quando Bianchini Si girato Mi ha indicato C'era con me Quello lì Poi mi ha detto Vai dentro C'era Conomo Muranco Ho detto vabbè Lasciamo perdere Ti venia da ridere Sì mi venia da ridere Poi infatti Stando nel dubbio Sdrammatizzo ridendo Poi dopo Carico delle emozioni Senza paura Sono andato a rimbalzo Con la rincorsa Vai cazzo Adesso questo lo prendo Perché mi ricordo Sicori Gains Aveva tirato una cacciotta Qualcosa del genere Che aveva fatto tre rimbalzi Ed ero convinto Ho capito Proprio ho detto Cazzo La prendi Sì ho preso due gomitate Una della di Garrett E una della dell'agiello Dei miei Due mi sono girato E erano già dall'altra parte Ma cosa succede? Morri E' stato bello Con questo messo in entusiasmo E invece il primo canestro L'hai fatto Il primo canestro Sempre così Ho avuto la fortuna In casa In coppa Sempre con CSK a Mosca E lì subito dopo Mi dicevo a Ottavio Ho arrivato Walter Ho fatto Bravo Biccio Dai domani tre chili di mignon Grazie Walter E quindi hai dovuto portare le passi Sì Sì con grande piacere Sono quelle cose Quali consigli daresti A questo ragazzo Che ti siede di piano Ma Così devi dire Tante giovane Argentino C'ha questa faccia da birichino Non c'è nient'altro da dire No? Sicuramente L'unica cosa che posso permettermi di dirti Divertiti sempre Che è la cosa principale Perché anche quando c'hai paura Ci vuole La paura e la faccia tosta Sono due cose diverse A me la paura mi ha aiutato Perché rispetto per tutti E paura di nessuno Però tanto alla fine Quando sei lì Però ti dà quell'energia Capito? Che quando ti lascia andare Non fai il primo canestro E dici Tante c'è un pallone C'è un canestro Dai giochiamo Poi vediamo Quello L'entusiasmo L'entusiasmo di dire Che sto andando a combattere Che è sempre una guerra Per tutto Per quello che pensano gli altri Che diranno dopo Per quello che è il tuo ruolo All'interno di un contesto Così importante Perché tanto È una cosa molto importante Però sempre con il sorriso E divertendoti Incazzandoti Quando fai un cagare Perché tanto quello Dobbiamo farlo tutti Se no Abbiamo finito il bonus Delle parolacce Mi sentivo i calci da dietro Infatti c'è qualcuno dietro Senti Etta Vi raccontiamo un attimo Come sei arrivato in Italia Come è nata questa opportunità E poi tra l'altro Sappiamo anche Che hai un fratello Che gioca a Roseto Giusto? Più grande di te Più grande sì sì Io avevo 17 anni Ero in Argentina In Santa Fe Precisamente E giocavo lì E a un certo punto Io ho deciso Che volevo andare via Volevo provare A alzare il livello E andare fuori di casa E avevo dei compagni pure Che erano già fuori in Europa E quindi In quel momento ho pensato Che era quello che dovevo fare E io ho l'agenzia Dei procuratori Anche in Argentina Che è con quella che ho iniziato E quindi ho preso il telefono Ho fatto una chiamata Ho detto guarda Io vorrei andare Vorrei provarci E alzare il livello Andare fuori E giustamente Il posto migliore Era Italia Anche perché io sono Italo-Argentino E quindi dopo Un po' di mesi Di cercare Che non c'era Non si trova Così così Alla fine L'ho trovato Per venire Il primo anno Agliesi Agliesi E quindi hai fatto le giovanili E hai giocato anche in serie C però Giusto? Agliesi sì Anche in serie B Serie B non potevo Per la formazione Solo per italiani Fino a quel punto E poi sei arrivato All'Ital Service Loreto L'anno scorso Loreto l'anno scorso Più le giovanili Alla vuole E quest'anno Tutto Alla vuole Ed è stata anche Una bella fortuna Il fatto di poter essere Convocato per la nazionale Che ti ha dato La formazione italiana Quindi adesso tu Puoi giocare da italiano Sì 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 Ringrazio sempre molto Questa cosa Perché È quello che mi ha fatto Fare un passo E avanti Diciamo quindi Ringrazierò sempre Hai giocato agli europei Quindi ti sei fatto vedere Sì 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 Ecco vedi qua Sì Molto bella E qui con coach magro E poi c'è Giovanni Illuminati Che è l'assistente No non c'era Giovanni Non c'era È stato assistente Però il nazionale Quindi Sì 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 E quindi penso Abbia fatto magari Il nome almeno Guardatelo Poi se ti piace È già questa cosa Che ti hanno convocato Sei piaciuto E sei partito Con loro Sì 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 Quindi insomma È molto importante Questa cosa Già questo accento Da delfino A me piace molto Dopo parleremo di Carlos Alla fine Però ci manca quest'anno Un po' Questo accento argentino In squadra Quindi siamo contenti Allora Giovanni Hai già qualche domanda Per Octavio Buonasera a tutti da Max Buon anno Un caloroso saluto Il grande capitano Biccio faccenda E al grande Octavio Siamo tutti vicini I nostri ragazzi E solo così Usciremo da questo Momento complicato Forza WL Fino alla fine Una domanda Che ci arriva da Paolo Tifoso e abbonato Dal 1975 Una domanda per Octavio Non ho mai visto Dare un pallone Sotto a Mokevicius Da parte dei suoi compagni Perché Diciamo Non gli arrivano Questi palloni sotto Visto che ha Molte potenzialità Sinceramente Noi proviamo Sempre a giocare Anche Con il gioco interno E Guarda Dal mio punto di vista Ti posso dire Che Le volte che ho provato A dare la palla Sotto C'ero In quintetto Con Le otote E Quindi Penso che Proviamo a farlo Diciamo Sicuramente Le situazioni Sono diverse A volte È più facile E darle la palla Uno che l'altro Ma ci proviamo Sempre comunque Gioca talmente poco Che magari È già difficile Riuscire a dargli la palla Perché non è in campo Dieci minuti di media Circa Beh sicuramente Diciamo che Rispetto alla prima volta Che è stato a Pesaro È un po' più Lento Ci è sembrato Un pochettino più lento Sono passati gli anni Anche per lui Però Insomma ancora Il fisico c'è Per poter Non so se a te piace Difensivamente A livello di rimbalzo Insomma Non per dargli la palla Beh intanto L'hanno pre Ho capito che la domanda Era quella Sì la domanda Io penso che sicuramente Sarà sicuramente Leggermente più lento Ma io credo che Se si riesce a cavalcare Adesso non nello specifico lui Come dicevo prima Nelle cose che si vogliono ricercare Con più pazienza E più metodi Si riesce ad arrivare Se Ancora siamo convinti Che ha questo vantaggio tecnico E sono convinto anch'io Che ha tante Possibilità Potenzialità Bisogna cavalcarlo un po' di più Come lui Anche altre situazioni Un pochino più specifici Perché adesso Ormai è arrivato Un pochettino il momento Di stringere le maglie E cercare sempre I punti di forza Come dicevo prima Poi saranno bravi loro Dopo che hanno ricevuto Essere raddoppiati A dare una buona palla Agli altri compagni di squadra Perché se non raggiungiamo Questa mentalità È difficile Di sicuro Non usciamo con due o tre canestri Fatti di talento Di uno contro uno Perché è il momento Così Della partita Con mentalità Con decisione Con quello che sarà Le scelte tecniche Fatte alla società Alla squadra Gli allenatori Che hanno preparato le partite Cercando di non uscire da lì Ovviamente ci sono anche gli altri Che ci portano a fare scelte diverse Tanto è quella la cosa Tu Octavi Ti senti anche un po' playmaker Oppure A cavallo tra i due A volte A volte ci provo a farlo Dai Non è il mio ruolo principale Ma Ci provo Ci provo Ok Abbiamo ancora domande Allora Tanti saluti al grande B Ciò che giocatore Nico, Bea e Cristian Ti salutano Una domanda per te Urbana ti è rimasta nel cuore Sei rimasto nel cuore di tutti Ah beh Io spero di sì Per me Urbana è una parte importante Della mia vita Ci ho fatto cinque anni Ho conosciuto persone stupende E Cosa dire Mi sono sentito anche giovane Diciamo che gli ultimi anni Abbiamo anche Ci sono tolte anche qualche soddisfazione È stato un periodo Molto molto bello Ho avuto il piacere di conoscere la Titti Che è la presidentessa Diciamo una delle anime portanti della società Poi a seguire tutte le bellissime persone Che fanno parte di quel contesto E ragazze che mi sono rimasti tutti nel cuore Ancora li sento Quando c'è da fare un po' di casciare Se c'è tempo Vado su Nella possibilità ovviamente E loro sono giovani E io Una delle tante piazze di basket della nostra provincia No no La nostra provincia è veramente ricca di grandi piazze Di grandi competizioni Di grandi derby Quel basket popolare Che un pochettino ti riporta Quella No? Quella fotta Si diceva No? C'è un derby stasera Che sta andando E lì ci dovrebbe essere un po' di fotta È vero Se possiamo Giovanni Aggiorniamo il derby tra Loreto e Bramante Cercherò subito adesso Il grande Lorenzo Migiani Che ci segue come sempre tutte le settimane Per Octavio un messaggio continua così Con grande determinazione e grinta Arriverai lontano e farei un'ottima carriera Grazie Grazie mille Ci saluta anche Ci arrivano saluti da Pallezio Lui con il maglioncino azzurro è un gran figo Forza B C'era è con te C'hai fan Ci chiedono il tipo di contratto che ha Octavio Marito Allora io ho firmato diciamo per tre anni Con opzione di uscita Quindi interazione tre che poi si vede Bisogna vedere dopo Quindi sei legato con un contratto triennale alla VL Però con possibilità di uscire Sì Non uscire subito Ti abbiamo appena scoperto Va bene Allora L'ultimo Non vi è niente domande Solo un calorissimo Un grande saluto Al grande capitano Bicio Faccenda Da Belmin e tutta la famiglia Però stasera sei mobilitato Un altro messaggio Si arriva da Luca Invece bravo Octavio Come giocatore e come uomo Hai mostrato e dimostrato Di saper giocare Hai aspettato il tuo momento E ti auguro il meglio per tutta la tua carriera Alla VL Luca Ben di notte Grazie Grazie ancora Sì perché tra l'altro Meo Sacchetti il giorno della sua presentazione Ha detto Così gli hanno chiesto qualcosa sulla squadra Poi a un certo punto ha detto Poi mi sono piaciuti molto Quei due animali che avete in panchina Sì quei due ragazzi Fisicamente sono Ma non mi aspettavo di trovare due Che completano Due agonisti La squadra così Grossi anche fisicamente Insomma prestanti Atletici Così Ha detto così Ho chiesto di vedere le statistiche Per vedere quanto avevano giocato Fino a quel momento C'è stato un attimo di imbarazzo Perché Praticamente non sono stati utilizzati Ma adesso speriamo di vederli Ha cominciato subito Quindi è stata forse anche un po' una provocazione Come dire ok Ho detto che mi piacevano Allora adesso uno lo metto in quintetto A proposito di questo Octavio ci chiedono Da zero a minuti con Buscaglia Per quattordici giornate E quindici giornate di campionato All'esordio in quintetto Cos'è cambiato in così poco tempo? Devo dire che sono scelte Io provo a stare sempre con la stessa mentalità A lavorare sempre nello stesso modo Con la stessa intensità E la stessa mentalità Quindi alla fine io provo a fare il mio E poi giustamente La staff che decide Se sono pronto Se non sono pronto Se posso giocare E tutto qua Tre minuti a Bologna Però ci hai detto prima Io non mi ricordavo Che è entrato già Quindi il debutto l'aveva già fatto Però un conto entrare tre minuti In una partita già decisa E un conto entrare in quintetto E tra l'altro Ti hanno fischiato due falli Se non sbaglio In quattro minuti Questa la faccia a B C'è la domanda Perché non voglio che si esponga Ottavio Che dopo se no La prossima domenica Ne ne fischiano tre Perché gli arbitri Ce l'hanno così tanto con i giovani? Perché non perdonano niente? Io sono convinto Che se invece di Ottavio Fosse stato Tambona Non gli avrebbero chiamato Due falli in quattro minuti Cioè sembra quasi Che devono pagare un dazio I ragazzi Quando entrano Beh ma quello Fa parte del gioco Magari ha perso l'occasione Non lo so Poi non ho visto Gli specifici casi Di due falli di Ottavio Però in questo momento Siccome lui non può parlare Perché dopo magari Ne ne fischia in tre La prossima Anche Tambone Giustamente gli dice Adesso l'ha detto così la metta Dopo adesso la prossima Ne me lo fischiano No per carità ecco Gli arbitri tendono ovviamente A punire magari Un gioco più aggressivo Più agonistico No? Magari c'è più pressione C'è più entusiasmo Anche una difesa diversa Più da quella di un giocatore Più grande E magari Non è che non mette la stessa pressione La mette solo in alcuni momenti E' più furbo Perché sa che c'è quello Lì Insomma che Quando sei giovane Sei il primo capo spiatorio Di un momento Per interrompere la partita Prendere un momento di fiato E recuperare un fischio sbagliato Che è sempre un doppio errore Però tendenzialmente Se cerchiamo sempre Di punire questi giovani Per il loro agonismo Per la loro aggressività Dopo da lì Aprirei una parentesi Andiamo a casa l'anno prossimo Va bene Perché no Perché se questo ragazzo arriva Poi viene notato anche dalla Nazionale Grazie a tutto quanto Lo staff Della nostra società Tutta la sua agenzia Eccetera Poi dopo Come tutti questi ragazzi Lui non potrà perdere Il suo agonismo La sua intensità fisica Perché in Italia Giochiamo un pochettino Più soft Tra virgolette Che è brutto dirlo Però dopo Facciamo le solite frasi scontate Andiamo a giocare in Europa Poi andiamo a giocare Dalle altre parti E vediamo che ogni volta Non so come dire Ci vorrebbe un pochino Più di agonismo E tecnicamente Se non c'è un vero fallo Che ti permette di interrompere il gioco Lascia andare Cioè se Ottavio non gli ha già rubato due palloni E' andato a schiacciare E se Ottavio non ha già lasciato lì due denti nel gomito Di quello che palleggia Lasciali giocare Dopo sembra Non mi fa dire un altro sport Che non c'è contatto fisico Dopo non hanno più senso Vediamo Tanto la tele la vediamo Vediamo l'Eurolega Vediamo le partite Di un certo livello Nell'NBA Tanto devo fare queste cose qua O anche l'agonismo di un NCAA Che pressa per 40 secondi A tutto campo Torni a casa Che hai tutti i grafici Sempre tatuati Non hai preso due falli Se ti va bene Giusto Secondo me Se vogliamo aumentare un pochino Anche il nostro agonismo Che ci lamentiamo sempre La nazionale italiana Non è piccola Siamo bassi Allora cazzo che Dobbiamo essere degli animali Dobbiamo crescere Con una mentalità Che gioca e duro Vedo che questa domanda Ti ha appassionato Abbiamo finito il bonus Dele parolaggi Giovanni Sì allora Vogliamo Michele Zavagnini Conduttore Insieme a Bettaferri Bitlio E vediamo cosa risponderà Quindi inolteremo questa domanda Io e Michele Abbiamo già fatto radio Per dieci anni insieme Quindi forse la coppiata Era piaciuta Va bene Ciao Michele Se sei all'ascolto Ciao Michele Quanto influirà L'arrivo di McDuffie E invece per Octavio Il nuovo metodo di allenamento Di Meo Sacchetti È molto differente Rispetto a quello di Maurizio Buscaglia Allora rispondiamo a questa domanda Per di McDuffie Ci occupiamo tra poco Con un video Allora sicuramente Allora sicuramente diverso È diverso sì Sono due persone diverse Quindi qualcosa cambia sicuro E poi niente Siamo noi che dobbiamo stare lì A mettere il nostro Sempre la intensità È tutto E che penso che lo facciamo Quindi alla fine L'importante mi sembra Sare questo Ma è cambiato qualcosa Dal punto di vista tattico In questi giorni Sì 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 Anche le scelte Tutto cambia Sì Si corre un po' di più Sì sì Si corre un po' di più È il gioco che piace a me O ad altronne Quindi ci troviamo Allora Andiamo a vedere questo video Di Marcus McDuffie Che è stato firmato Martedì notte Purtroppo non giocherà domenica Quindi se qualcuno ancora Avesse dei dubbi Ve lo diciamo chiaro Il giocatore è ancora in America In attesa del visto E quindi si imbarcherà Nel weekend Per cui sarà a disposizione Per la partita con Brindisi Del 28 gennaio Ecco nel frattempo Erano già arrivati Mochevicius Prima Cinciarini Poi Come si lavora Octavio Per inserire i nuovi giocatori Durante la stagione Quali sono le cose importanti Quando arriva qualcuno La stagione è già cominciata Sicuramente Non è Non è subito Questa cosa Da aggiungersi Ma come ho detto prima Abbiamo un gruppo Unito Cioè mi sembra Un gruppo molto molto bello Quindi Alla fine Quando arriva un nuovo giocatore Proviamo Tra noi Tra tutti Di stare insieme Di farlo formare Parte del gruppo E poi Giustamente Negli allenamenti Bisogna Fare vedere un po' Come Come gioca la squadra Tutti i sistemi che abbiamo La difesa Tutto Quindi sarà Qualche allenamento Per sistemare queste cose Ma penso che dopo un po' Di giorni O fino adesso Con gli arrivi È successo così Dopo un po' Di giorni Eravamo più o meno a posto Sì 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 Senti Bicio Per la tua esperienza Questi arrivi In corsa Durante la stagione Quindi gli innesti Tagli di giocatori Per far posto A qualcun altro Sono stati Più efficaci O più dannosi Per tutto Diciamo La tua carriera Se dovessi fare un bilancio Nella nostra Nella mia carriera Se devo fare un bilancio Onestamente Per la mia Per quello che è la mia esperienza Quando c'è l'arrivo Di un nuovo giocatore In un contesto Di una squadra Che si deve salvare Sicuramente Ci saranno giocatori Più o meno Intelligenti O egoisti A scelta Che non capiscono Perché magari Gli verrà tolto Del minutaggio O dei tiri Però è perché Si deve raggiungere L'obiettivo Di salvare la squadra In squadre Che giocano Per attrezzarsi O per arrivare Magari ai playoff Che non hanno cotto Tutti i migliori O comunque Devono recuperare Qualche infortunio E affrontare i playoff Con una giusta intensità Perché comunque Arrivare in fondo Con la mentalità Di arrivare a vincere Lo scudetto Sono tante partite E averli sempre Tutti in forma Non è facile Per me Gli arrivi in corsa Sono sempre Come dice lui Non magari immediati Poi siamo fortunati Arriva un giocatore Si trova subito La sua giornata Fa 20, 30 O comunque fa bene Con anche pochi minuti Ce lo aspettiamo tutti Però sicuramente Sarà il lavoro Dello staff Della squadra Di inserirlo Fargli vedere Il mood Di tutto quello Che stanno facendo Che hanno deciso Di cambiare Dall'arrivo di sacchetti E farlo integrare Questo ragazzo Ho visto che fa canestro Mi sembra Non so Abbiamo scelto Abbastanza Sì Anche perché Se mi ricordo bene Non mi ricordo bene Credo Adesso ho visto Un Un Raduno Pao A Senigallia C'era sacchetti Con la nazionale Appunto Quando era E ha fatto vedere Un pochettino Le sue tipologie di gioco Ma che si conoscevano Già da prima Di Sassari Eccetera Con la quale Poi un po' La storia Corri Palla All'uomo avanti Perché giustamente Bisogna pedalare Dare ritmo E cercare di avere Il giocatore Che è libero Di fare canestro Perché se no Tira tutti Pallone uno Tocca il canestro Tra l'altro È bello Il bonus dialetto Invece lo puoi usare Il dialetto Tira tutti Ma fa canestro di giù Cioè una volta Sera il realizzatore E il giocatore No? Perciò voglio dire Ecco nel senso Se mettiamo un pochettino Più di qualità Non ci fa male Senti Io devo dire la verità Quando Sacchetti A Sassari Ha cominciato A utilizzare Probabilmente lo utilizzava Anche prima Ma sai Arrivando in una squadra Più importante Dopo è stato più Sotto il mirino Utilizzava questo tipo Di gioco Che era divertente Si vedeva che Sassari Poteva fare un campionato Di vertice Io però non credevo mai Che giocando così Sarebbe riuscito A vincere lo scudetto E invece mi ha smentito Quindi ho una grande Ammirazione per lui Perché è rimasto fedele Alla sua filosofia E ha vinto Giocando così Quindi anche Non dico senza difesa Ma sicuramente Puntando più sull'attacco Ecco secondo te È possibile Essere vincenti Con una palla canestro Di questo tipo Mentre No Oramai La difesa La difesa La difesa Però quel giorno Meo Con una battuta Ci ha ammazzato Perché ha detto Si chiama palla canestro No Se no si sarebbe chiamata Palla non canestro Eh beh beh Siamo rimasti zitti Perché è una cosa Talmente banale Ma talmente vera La semplicità A volte chiarisce Tanti contesti Nel senso Alla fine Il discorso è questo Questo tipo di palla canestro Noi lo vediamo Perché Prima per noi Era una cosa folle Negli anni 80 Io mi ricordo Anche i primi del 90 Quando ho avuto la fortuna Di andare La palla ancora Stava partendo Faccio un esempio Stupido Non so C'era Non so Walter Che faceva Il ribaltamento Del lato Io ancora dovevo Avere la palla Qua c'era Riva E mi ti conlembo Che faccia Passa sta palla Cioè non pensavi Neanche pensare Che dovevi guardare Il canestro Quando ricevi la palla Ma che guardare Il canestro Passa sta palla Che gliela do subito Lui Perché era tutto Un altro tipo Di mentalità Ad oggi Questi tipi di squadre Con la giusta No Serie di giocatori Che gli ha da Butte dentro La palla Del bug Che se no funziona Bisogna che Lo accettiamo Perché se tu hai I giocatori Che fanno canestro Corrono Tirano E nell'insieme Dell'intensità Portano una sorta Di difesa apparente Che però Quando tu sbagli Ripartono velocemente E ti hanno già fatto Canestro dall'altra parte E si hanno grandi Percentuali da fuori Ormai è chiaro Il discorso C'è un esempio Nell'NBA Classico Di World Estate Sì ecco Però è chiaro Che devi avere Però dei giocatori Di grande talento Per giocare così Perché se giochi Run and gun Con gente che non fa canestro Perciò il discorso Era quello Quindi questa squadra Sarà adatta Tutto è La mia domanda Arriva a questa Sarà adatta Questa squadra La filosofia di me Allora Run and gun Che magari Questa squadra Non è nata Per correre Tirare solamente Con magari Dei finalizzatori Sarà un pochino Più run Ogni tanto Speriamo Che la gun Va bersaglio Cioè si vorrebbe Un po' Un sac di alleniette Un po' Bastunette Perché se fa un po' Di difesa Nel senso Quando non riesce A fare canestro La tua forza È la difesa Come si diceva Nel classico discorso L'attacco Vende i biglietti E la difesa Vince le partite Ok Ok ma finché L'attacco fa canestro Poi dopo Sostiene la teoria Se tu fai canestro Forse vinci anche Oltre a vendere i biglietti Ma è una grande Una grande verità Mi spiace Nella sua semplicità Ha detto tutto Certo Vai Giovanni Un attimo L'aggiornamento Italservice Loreto 43 Bramante Basket 25 Ora iniziato L'intervallo Ah però Non me l'aspettavo Sinceramente Pensavo un derby Più equilibrato Invece purtroppo È andata così Salutiamo tutti gli amici Del C'era una volta Che ci stanno seguendo Nel schermo Del C'era una volta Portate pure una Rossini Oggi è il giorno mondiale Della pizza Oggi è il pizza day Bellissimo Ci ha scritto Non l'abbiamo nominata ancora La salutiamo Per averci scritto La ringraziamo La signora Tiziana D'Accoglia al Metauro Deve fare pronostico Domenica Penso sarà una partita Combattuta Con finale Punto a punto Io giustamente Gli ho chiesto subito Il risultato Perché l'altro giorno 7-7 7-5 Adesso me lo segno Per noi ovviamente Certo No perché La signora Tiziana Ha azzeccato Il risultato di Pistoia Cioè non solo Era l'unica Che ha detto Che avremmo vinto Mentre tutti erano convinti Che sarebbe andata male Ma quasi ha indovinato Il risultato Per un punto Mi sembra Va Quindi adesso la chiamiamo sempre Bravissima Gli dobbiamo almeno Una cena Certo Gli la dovrei Ci arriva una domanda Invece da Ragno Perché Betta Che io te lo Mando subito a te Perché solo da noi funziona Che firmiamo Un giocatore di martedì Intanto lo ricordo Comunque è stato firmato Martedì sera E ci arriva la settimana dopo Quindi Questo ha fatto Questo nostro Aspettatore Ci ha fatto un esempio Bartley a Brindisi È arrivato E ha giocato In 48 ore Allora Bisogna vedere Dov'è il giocatore Perché voi sapete Che gli americani Hanno bisogno del visto Per giocare Se fosse stato francese Avrebbe potuto arrivare Dopo mezz'ora E giocare praticamente Mentre gli americani Hanno bisogno di un visto Il problema è Che se il giocatore È momentaneamente In Europa Può fare quel visto All'ambasciata italiana Ad esempio Se McDuffie fosse stato Ancora In Turchia Poteva andare ad Ancara All'ambasciata italiana Di Ancara Fare il visto lì E arrivare a Pesaro Probabilmente in tempo Per essere tesserato Il problema è che lui Era già in America Perché è stato tagliato L'ultima prita È giocata il 2 dicembre Quindi è passato anche un bel po' Speriamo che sia ancora in forma Bisogna Dopo la firma Produrre una documentazione Molto Cospicua Che deve arrivare anche Dal CONI Dalla federazione Quando Tutta la documentazione È completo La società Presenta la documentazione All'ambasciata italiana Che dà L'appuntamento Al giocatore Per andare a fare il visto Ma non glielo dà subito Il giocatore va lì Porta la documentazione Poi il giorno dopo Di solito Gli riconsegnano Il passaporto Con il visto A quel punto Il giocatore può partire Purtroppo martedì sera Non c'erano i tempi tecnici Per riuscire a fare tutto questo Se fosse stato firmato Domenica Ecco Forse sarebbe arrivato in tempo Però Evidentemente Saltato Buscaglia Cambiato l'obiettivo Sapete che prima Si voleva prendere una guardia Al posto di Banford Poi dopo Invece Sacchetti Ha deciso per Un numero 4 Anche perché Banford Sta rientrando Quindi forse Non avrebbe avuto più Molto senso a questo punto Prendere un'altra guardia Poi abbiamo Ottavio Così sono date le cose Infatti adesso abbiamo anche Ottavio Quindi Bene allora Adesso giriamo un attimo pagina E andiamo a vederci La classifica di serie A Il tabellone Grazie Andrea Dalla regia E questa è la classifica Con il nostro Quattordicesimo posto 10 punti Però prima Biccio Che si intende Dei massimi sistemi Magari non sa Quanti punti abbiamo In classifica Mi ha chiesto Ma i playoff Sono lontani Quanto? 10 punti? No di meno Gli ho detto Sono lontani 6 punti Però adesso A parte i playoff In realtà La salvezza è lontana L'ultimo posto è lontano Quattro punti Quindi forse bisogna più Gli scontri diretti Bisogna più guardarsi le spalle Però ecco Quello che volevo chiederti Ottavio Adesso dietro di voi Sono rimaste solo Brindisi E Treviso Che per fortuna Avete battuto Nel giro di andata Quindi che tipo di aria Si respira nello spogliatoio C'è un po' di tensione Un po' di paura Oppure siete fiduciosi? Allora Come in qualsiasi squadra Ci sono dei momenti Che magari la squadra È un po' più giù Magari dopo una sconfitta Come È importante Diciamo No Ma In generale ti dico Il gruppo Prova a stare molto unito A stare sempre lì insieme Quindi L'aria tra di noi È sempre buona Alla fine Perché Se non c'è quello Non c'è niente Alla fine E quindi L'aria devo dire è buona E poi noi proviamo A mettere tutto A lavorare bene insieme E cercare di fare il meglio Senti Bicio Invece adesso Ti faccio fare dei pronostici Andiamo sul tabellone Delle final eight Andrea Le final eight di Coppa Italia Alle quali purtroppo Non parteciperemo Come vedi Venezia Pistoia Milano Trento Reggio Emilia Virtus Napoli Brescia Questi sono i quarti di finale Chi vince la Coppa Italia Bicio secondo te Chi vince la Coppa Italia Non lo so Onestamente Io credo Per come sta andando adesso Mi sembra Scontato Dire Bologna Che è ancora Forse Più forte In questo momento Più in app Anche a livello Europeo Da parecchio ormai Sta facendo veramente Delle partite Molto molto di alto livello Dici perché Sennò Daniel Non ti parla più No lo dico perché Secondo No 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 Assolutamente Lui sa benissimo In quanto gli voglio bene Lasciamo percaliamo Un velo pietoso Su questo discorso Però Perché la realtà Dei fatti è questa Secondo me Quest'anno Non dico che sia Così scontato Però magari Bologna punta Il triplete Quindi se dico Chi vincerà a Scudetto Mi dice ancora Bologna Ti ho già risposto Perché secondo me Hanno strutturato la squadra Ancora leggermente Più forte E stanno giocando Veramente molto Molto bene Non lo so Se Milano Quest'anno Riesce anche quest'anno Imporsi A livello italiano Parlo sia in Coppa Che in Scudetto Per le altre squadre Io un outsider La sogno sempre Come sogno Di fare ancora i playoff Ma non perché Perché onestamente Penso che ci sia La possibilità Per almeno Di una salvezza Più tranquilla Grazie a tutti questi Innesti scelti Dalla società Questi rinforzi Dall'allenatore Ai giocatori E poi da tifoso Cazzo ma perché Devo giocare solo per perdere O per non perdere Completamente Gioco per sperare Di arrivare almeno A quel meraviglioso Ottavo posto Che mi dà ancora Veramente un senso Perché Ci tenevo a dire una cosa Che tutte le volte Si dice No Che Dico noi pesaresi Noi popolo bianco rosso Che non sono solo pesaresi Perché siamo Seguiti da Tutta l'Italia Tutti i tifosi In tutta Italia Come per le altre squadre Sicuramente Ma voglio dire Avendo avuto la fortuna Di girare un po' la provincia Di conoscere anche Le altre realtà cestistiche Ho scoperto che abbiamo Incredibili appassionati E tifosi Da tutte le parti Anche delle Marche Delle Emilia Da tutte Il centro Italia Che vengono per vederci Ed è bello questo Perché non siamo più I tempi degli scudetti Però Ho delle Euroleghe Che ci sono state La gente comunque Ha una mentalità Cioè nel senso Qui è un popolo Bianco rosso Che poi si arrabbi E non si arrabbi Che frigni Che non frigni Tiri le uova Che contesti Noi siamo pesare Lo abbiamo sempre fatto Ma siamo pesare Anche in maniera positiva E siccome Non mi piace più Sentire dire Che il popolo Dei tifosi Di uno In assoluto Per quello che è La grandezza della città Della tifosiera Più grossa d'Italia Per quello che sono Gli abbonamenti La costanza Nonostante che non sei A fare le finali scudetto Da non so Vent'anni O anche di più Facciamo parecchio di più Ecco appunto Per me È ora di iniziare a pensare Che in maniera intelligente Perché ovviamente Serve sempre solo amore Soprattutto quando va tutto Di male E bisogna che Ci si unisce tutti Perché è inutile Stare sempre a dare Ad osso Quando magari Serve un pochino più Di carota Il bastone Penso che sia stato già dato No? Ha fatto scelte tecniche Ha cambiato allenatore Giocatori Perciò ricordiamoci Che non siamo Il sesto uomo in campo Ricordiamoci che I tifosi sono sempre Il primo uomo Soprattutto Quando non siamo I primi in classifica Quando siamo gli ultimi In classifica Siamo Il primo uomo in campo Siamo tutti noi Quelli che ci tengono Per questi ragazzi Che ci devono provare Fino alla fine Quando giocavi? Quando giocavo Eravamo abbastanza forti Avevamo la fortuna Di vincere Ed eravamo Era lì il sesto uomo Ma quando non eravamo Tra i primi in classifica Avevano voglia Di interagire Come giusto che sia Nella maniera corretta O con il capitano Con le figure più principali Della società Giustamente per far sentire La propria voce I tifosi che ci vivono Perché la gente Non è È una questione di mentalità Nel senso C'è chi va Si arrampica nella ringhiera A fare l'ultra E c'è chi soffre in silenzio Che lo vede da Trent'anni in più Di quel ragazzo Che sta urlando da in cima Capito? Ognuno porta la sua mentalità E non che siamo tutti allenatori Ma quello che ti volevo chiedere Era Si sentono di più Gli applausi O i mugugni Fischi Quando giochi Quando giochi Non mi ricordo più Però quando vado alla partita Se dovessi andare da tifoso Senti tutti e due Io non ci vado Perché mi dà fastidio Troppo Preferisco stare a casa Come dico sempre A mia moglie e mia figlia Nel divano Perché a me non mi arrabbio da solo E non mi sento la bianca Comunque ricordo questo Noi siamo la forza Di questa grande squadra Che ci darà sempre più Delusioni o soddisfazioni Alternate Tanto è questo Abbiamo visto momenti Anche molto peggiori E spero che vedremo Momenti migliori Anche di quelli del passato Anche se sarà dura Ma noi siamo sempre Pesaro Noi Noi Il popolo pesarese Che ha quel grande peso Di rompere le palle A tutti quelli che stanno lì Gli dà anche quella forza Però di poter sperare Di vincere 77 a 75 Contro Milano Perché noi siamo Il primo posto D'Italia Dove tutti quanti Possono vedere Vara Pesaro Cazzo Non vince mai Ma Dio Baccia Il popolo di tifosi Più incredibile d'Italia Terzo classificato Dalla media Terzo classificato Dalla media Quest'anno Non è il mio La mia media È diversa Abbiamo una media Di 5151 Mi pare Non mi ricordo Però Comunque dietro Bologna E Milano C'è Pesaro Appunto Quindi ecco Se pensi agli obiettivi E ai budget Anche noi Siamo terzi in classifica Ma dal basso Però siamo sempre noi Cazzo Siamo sempre qui Nel bene e il male Capito Perciò veramente Domani ti chiamano Come motivatore No Il motivatore Sia quando ci sono le Noci e le lamentele Da parte di tifosi Canto è normale Chi la vive con tanta passione Fa anche fatica Magari a capire Che una parola in meno O una parola in più Dipende dal momento Magari cerchiamo Un in meno Perché aiutiamo Magari anche loro A prendere fiato E sicurezza Visto che quando va tutto male Si serve sempre solo qualcuno Che aiuta ad andare meglio Più che altro io penso Che quando tu sei insicuro E entrare nel tuo palazzo E non sapere se la gente Ti sosterrà o ti fischierà Non ti fa stare proprio tranquillo E a volte Le squadre in difficoltà Giocano meglio in trasferta Ma non parlo solo di Pesaro In generale Dico A volte Il proprio tifoso Quando ti sta così tanto addosso Può diventare anche un po' No? Hai paura Di andare lì E fare le figuracce E essere insultato Quindi Devo dire però Che quest'anno A parte il giorno In cui i tifosi Hanno deciso di abbandonare La curva Che è stato comunque Un gesto simbolico Che trascende Hanno sempre sostenuto la squadra Anche quando era sotto Di 30 Io sono convinto Che anche durante quel gesto La scelta di quel gesto Sia basata sul fatto Che loro vogliono Mandare un messaggio E non lo so Perché Lo dico Proprio appassionatamente Io non ho parlato Con i ragazzi Non ho avuto piacere Magari l'incontro Tutto quanto So di questi fatti Che sono accaduti Però fa parte tutto Di quello che è Nella loro testa Cioè per loro Non gli andava bene Bisogna che anche noi Accettiamo questa cosa Cioè noi nel senso Parlando adesso Dal lato della società Dello staff E della squadra Stiamo dando veramente Così poco Ci stiamo meritando Anche l'abbandono Della curva Cioè un insieme di situazioni Che vanno prese in considerazione Perché è giusto Loro fanno questo gesto Poi saranno i primi A riempire il palazzetto Di cuori bianco rossi E di lacrime Per stare vicino alla squadra Nei momenti più difficili Fino alla fine Però bisogna che mandano Un messaggio Perché se non c'è qualcuno Che gli spiega Quanto ci tengono Quei ragazzi Oltre a tutti quelli Fighetti che stanno lì Perché gli piace E va bene Bello Giusto Però è anche bello Che uno capisca Che non è tutto dovuto E ogni tanto da gusto Poi ho il bambino Che si arrabbia Ha ragione Perché lui viene lì E fa il tifo Per la sua squadra E anche io Se un bambino Mi incazzo Come una bestia Però bisogna stare Uniti fino alla fine Perché tanto Li abbiamo visti Anche di molto peggio E ci siamo salvati All'ultimo tiro All'ultimo secondo Allora ti auguro di no Perché dopo qui Sono sempre me I capelli Anche da tifo Cioè è un insieme di cose Che devono ribilanciarsi La società ha fatto bene Secondo me In mio piccolo parere Ha dato speranza E comunque ha portato Tanto incremento di energia Di forze nuove Speriamo adesso Che con l'arrivo Degli ultimi ragazzi Si compatti il gruppo Adesso non per forza 77-75 Stando male fino alla fine 77-55 Se vinciamo come le hanno Va bene uguale Gli stringiamo un po' il ferro Non lo so Però insomma Ecco il percorso Deve essere questo Una VL Che secondo me Fa un Fine gennaio Inizio febbraio Dove inizia a trasformarsi Con un sacchietti nuovo Con questi nuovi innesti E le mie speranze Sono quelle Se non è così lontani I playoff Proviamoci Vediamoci allora Gli highlight di Milano Tortona Andrea Che domenica Comunque ha fatto fatica A portare a casa Questa vittoria Tortona tra l'altro Una maledizione Non anche Da quando è arrivata In Serie A Al piano di sopra Non ha mai battuto Milano E anche questa volta Pur avendo fatto Una rimonta nel finale Ha dovuto cedere Di misura Senti Se ripensi Alla partita Octavio Di Milano Dove avete trovato La forza Per fare quell'impresa E cosa rimane oggi Di quello spirito Quella partita Mi ricordo Siamo stati Molto bravi Sia in attacco Sia in difesa Il piano partita Tutto Era stato proprio Fatto Perfetto Potrei dire Perché alla fine Una partita vinta E così Ti posso dire In questo momento Noi vogliamo Vincere Si va a vincere Quindi Proveremo a fare Le stesse cose Nel senso Tutto quello Che abbiamo fatto Bene E riprovare A portare Un'altra vittoria Senti Bicio Si dice che queste Siano le partite Più facili Da preparare Per un allenatore Perché non essendoci L'obbligo Della vittoria Contro una squadra Di questo calibro Cala la pressione Dalle spalle Dei giocatori Ma è davvero così? Ma io non lo so Non posso parlare Per l'allenatore Non posso parlare Da giocatore Onestamente Se una partita Si dà la possibilità Di pensare Che anche se perdo Non c'è problema Vabbè Quello sarà un problema tuo Perché se io gioco Gioco per vincere Non per partecipare Non ho capita male Quella storia Una volta Quando ero ragazzino E onestamente Un motivo in più Perché Milano Se perde Si dice Ah non l'ha presa Sotto gamba Non mancavano Quello Stava male Ma che cazzo Me ne frega Chi manca Mi hanno pensato Talla perda Talla di chiesa E basta Mancano Mirotic Lo e Baron Dovrebbe rientrare Schiltz Queste sono le Lo so Mi stavo ragionando Però di base Non posso pensare Che mi cala la tensione Perché tanto gioco contro Milano Non posso vincere Anzi no Perché quando c'è La più bella Da portare a casa Tradotto Poi alla fine Ci accontenderemo di quello Che passa al convento Però arriva Milano Con quelli che ho Io devo essere bello Lucido Pronto E super incazzato Cioè male che vada Non faremo mai canestro Poi potremmo mordere Le caviglie dall'angolo destro Da sotto la tifoseria milanese Per tutto il campo Per 40 minuti Poi io faremo Dei cambi più veloci Non lo so Per portare qualcosa di diverso Perché secondo me Tu puoi perdere E non fa bene a nessuno Però c'è modo e modo Per relazionarsi e perdere Perciò con Milano Sai che ha fronti più forti Tra virgolette Quelli che sono tra i più forti Insieme a Bologna Come vi dicevo prima Bene Deve essere un motivo in più Che mi entusiasma Non una scusa in più Ah vabbè Se perde un successo E se perde il successo Però va alla fine Quando è scaduto il tempo E speriamo non vada così Cioè quella è la mentalità Io non riesco Non la posso sopportare Anzi poi Quando arrivano i più forti Forse ci si gasa Un po' di più Nocta Almeno gli dai le scuse Cioè sapere di sfidare La squadra campione d'Italia Sì sempre Ti fa spingere un po' di più Diciamo Chissà che capiti Allora vi facciamo riposare Un attimo Scusa ti interrompo Allora intanto Chiedo a Andrea Sabatini Intanto lo ringrazio I nostri amici del Cera Ci stanno seguendo E ci hanno proprio messo In tv Come potete vedere Nella televisione Bellissimo Ci hanno proprio messo Ci hanno mandato una foto Per salutarci Eccoli Tutta la nostra Tutto il nostro Il suo staff del Cera Una volta E volevo anche un messaggio Che ci sono arrivati Due messaggi Grande bicio Numero uno Ti vogliamo Sindaco dopo Ricci Motivazioni al top Il 9 giugno Tutti per faccenda sindaco Giorgio da Sorria Bellissimo L'ultimo messaggio Octavio Come vivete il momento Di malumore Dei tifosi Di queste ultime settimane Allora Devo dire Non è facile Sentire Sentire I tifosi Incontro A volte Ma Noi proviamo A fare tutto Sia come squadra Come gruppo Penso anche Insieme ai tifosi Quindi Non è facile Ma Dai Ci stiamo provando A dare Una Un'allegria Non so come si dice Allegria In italiano Ma Per tutti Dai Bene Allora Quest'accento Di cui Ci piace Di Octavio Ci ha riportato in mente Carlos Delfino E stasera Nell'album dei ricordi Che sempre facciamo Insieme a Canestro Abbiamo parlato Di tanti giocatori Del passato E quello di Carlos In realtà È un passato recente Ma adesso ormai Questa avventura È chiusa Lo sappiamo Perché Carlos ha scelto Un'altra squadra Ecco Finché era ancora libero Non ce la siamo sentita Di dedicargli un omaggio Perché Chissà mai Che poteva ancora tornare Non lo so E allora Adesso invece che lui Ha scelto di tornare in campo A cento In serie 2 Dove vive Con sua moglie E sui due gemelli Ci sentiamo di dire Che appunto L'esperienza di Carlos A Pesaro È terminata Ed è giusto Grazie anche ai video Che Claudio Iachini Ci ha passato Ricordarlo E Proprio perché stasera C'è un argentino Qua con noi E dire che ci manca E dire che ci manca Non solo l'accento Con tutto il rispetto Perché Carlos Era un signor giocatore E penso che Pesaro abbia gradito Assolutamente Allora Carlos Delfino È una delle leggende Del basket argentino L'ultimo Dei giocatori Della generazione Dorada Ancora in attività In serie 2 Con 100 Dopo essere stato Per tre anni Il capitano Della Carpegna Prosciutto Con la nazionale argentina Ha giocato Quattro olimpiadi Vincendo la storica Medaglia d'oro olimpica Ad Atene 2004 Nel suo palmarès Anche il bronzo Ai giochi olimpici Di Pechino 2008 Ed un altro bronzo Ai mondiali under 21 All'inizio della carriera Dopo essere stato Lanciato in Italia Prima alla Viola Reggio Calabria E quindi alla Fortitudo Bologna Fa il grande salto Nell'NBA Dove rimane per un decennio Dal 2004 Al 2014 Fermato dal grave infortunio Al piede Che gli costa Ben sette operazioni Prima di tornare a giocare Si rimette in moto Nel suo paese Al Boca Juniors Prima di tornare in Europa Al Bascogna Nel 2017 Successivamente L'esperienza di Torino Quindi di nuovo La Fortitudo Che aiuta a tornare in Serie A E infine Nell'estate del 2020 L'approdo a Pesaro Dove scocca subito La scintilla Con i tifosi A Pesaro Carlos gioca 68 partite Con due partecipazioni Alle Final 8 E due playoff Segnando 724 punti La sua avventura Continua ora A 100 Dove abita con la moglie Italiana E i suoi due gemelli E con questa foto Carlos Sei all'ascolto Ti salutiamo E ti ringraziamo Per tutto quello Che hai dato In questi tre anni Hai fatto sentire Pesaro di nuovo Una piazza importante Penso La sua presenza Ci faceva sentire Un po' speciali Cazzo lo posso dire No Cazzo se ci manca Non perché Ti vogliono questi personaggi Che quando arrivano Nel posto giusto Anche perché Carlos sei molto grande Rispetto a te Pensa che è molto più Giovane di me La tragedia Comunque Avere la fortuna Di giocare Anche da giovani Con personaggi Di questo calibro Poi lui Eccezionale giocatore Persona Unica a peso L'ha fatto tutto Quello che doveva Anche quando Mi ricordo Gli ultimi tempi Non giocava neanche tanto E quando entrava Comunque dava il suo Perché giustamente Hai un minutaggio ridotto Anche in base a quello Che si è recuperato Personaggio Ecco Ci dispiace Perché è una persona Che sarebbe stata utile Anche in un contesto generico Magari con meno minuti Che servono appunto Questi leader silenziosi All'interno di un contesto Di un gruppo Perché poi alla fine Lo vedi anche Nei risultati in campo Non nella chimica Nella chimica della squadra Senti Octavio Tu l'anno scorso Carlos l'hai incontrato Ecco Che cosa rappresenta Per l'Argentina Delfino Eh ma Un giocatore grandissimo Grandissimo Io mi ricordo Anche vederlo Come una cosa Lontanissima Sia con la nazionale Sia giocando NBA Europa Un esempio E ho avuto la fortuna Poi di conoscerlo Come persona Una persona Eccezionale pure Quindi È tutto qua L'anno scorso L'hai incrociato No? Dicevi qualche allenamento Sì 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 Parecchie volte Ti ha detto mai qualcosa Per la tua carriera? Ma sì Dei consigli Me li hai dato Poi parlavo anche Spagnolo Argentino Quindi era bello Trovarlo Sempre Sì 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 Bene Allora Sono le 22.17 Tre minuti di domande Sparo Giovanni Faccio molto veloce Intanto un saluto A Grande Biccio Dal Nano Da Giardino E Matilde Da Bologna Ma quanti Ti hanno scritto Stasera Eh? E poi Abbiamo Ci chiedono Sei parente Del radiocronista Mirko Faccenda? No Sono grande amico Da sempre Ecco in ogni caso Forza VL Io Betta ho finito Andiamo Con il contest Posso dare la risposta Del contest Biccio Faccenda È stato capitano Della VL sponsorizzata Scavolini Spar Nella stagione 2006-2007 Con il grande ritorno In Serie A1 Il vincitore di oggi È Mauro Da Gabice Mare Ti piacciono queste foto Biccio? Bellissime Eri un bel guerriero Se non mi ricordavo neanche alcune Con la sua fascetta Bei tempi Bei tempi Sì Tu quindi nel 2000 Perché siccome ho faticato anch'io Perché ero convinta Che tu fossi stato capitano Di tutte e due le annate Invece nel 2005-2006 Era Federico Pieri Sì era Fede Io ero il vice Perché giustamente Io penso che All'interno di questo A parte il carisma Che poi Quindi siamo prima Essendo più grande Giustamente Poi essendo pesarese Poi Federico Bellissimo Poi per me era piacevole Fare il vice Poi l'anno dopo Doveva essere Calton Però giustamente Si era detto Che cazzo Calton E di Rimi Detto questo No infatti no Con Calton Ci ho discusso anche l'anno dopo Quando Ha lasciato al posto qualcun altro Ma era una persona meravigliosa Quella che è diventata capitano L'anno a seguire Te lo ricordi chi era? 2007-2008 Arriva dalla Fortitude Un ragazzo simpatico Dang Ah non mi ricordo Con Calton L'avevo litigato Te lo ricordo Ho detto cazzo Il capitano della Fortitude Viene a fare il capitano a Pesaro Il primo anno che torna a Meno 1 Si è proprio una crapetta Quindi tu hai fatto il capitano 2006-2007 Si ero capitano L'anno in cui Ricordiamo per chi Sono andato fino a 1 A Pavia Praticamente in quei due anni Pesaro ha precipitato Dopo il fallimento in Serie B Vince il campionato di Serie B Nel 2005-2006 Vince il campionato di Serie 2 Nel 2006-2007 Penso che ti sei divertito parecchio Sì Lo slogan era Vincere o morire Però diciamo Potevi fare due scelte Ti divertivi Pensando che Stanto non vinci Penso che sia stata Un'occasione unica Far parte di un gruppo Così Perché se Non era scontato Tornare su in due anni No Se l'abbiamo fatto due anni Eravamo sempre i quarti L'anno i quarti Che c'era Sorresina L'altro i quarti Che c'era Rieti Ti ricordi che erano Dei momenti difficili Con gli infortuni di Calton Poestà Mauro Sono state due avventure incredibili La squadra non mancava niente Per vincere Però diciamo che Devi sempre riuscire a farlo E far parte di un periodo Di quel gruppo così È stato stressante Perché era a casa mia Per me era tutto Quindi sai cosa prova Cinciarini adesso? Io so cosa prova D'Andrea adesso Però Non so come dire Nel senso Diciamo che Adesso La sua principale missione È Fare il leader in campo Per non cercare di far Perdere la ruta Alla nave E non pensare minimamente Alla retrocessione Invece Magari il prossimo anno Se faccio un esempio Questo gruppo rimane così No? E se Octavio firma Altri tre anni Perché Stai da stai a pesare Stai da l'amorosa pesare Fa tre anni Ma che diventi forte E torta via Sono tutti uuei No? Sono tutti uuei Bianchi, blu, neri Detto questo Ecco Diciamo che A parte le cavolate Giocare per vincere O giocare per non retrocedere Non è la stessa cosa Sì ma soprattutto Perché non potevi arrivare secondo Non so come dirla Secondo Avete una squadra clamorosa Eh ma non era così scontato Lo so Però quando uno a Calto Maes In serie B Deve vincere per forza Quindi questo obbligo diventa Diventa pesante Poteva diventare pesante Sì Mi ricordo che era pesante Mi ricordo tante cose Che Adesso Troverò un'altra occasione Per ricordarle felicemente Però diciamo che sono stati periodi Molto difficili Perché finché non abbiamo fatto Le scelte giuste Di innestare persone giuste O fare cambiamenti Come è successo anche Nell'allenatore A posto di Calvani Arrivò Ramagli Certo Di nuovo in serie A E grazie a quella banda di Matti Di cui Bicio era il capitano Di cui ho avuto grande onore E piacere di far parte Ma soprattutto perché Quella banda penso che posso dire Con orgoglio Con grande onore Grazie a quel gruppo di tifosi Che timidamente Poi adesso sono invecchiati E magari non hanno più voglia Di fare quelle scorribande Che facevano Facendo trasferte infinite Seguendoci ovunque Per tutta l'Italia Come fanno tutt'ora E l'hanno fatto da sempre Diciamo che ha riavvicinato Un pochettino la città Alla Scavolini Alla VL Perché poi Quando c'è stata la fusione Con la Spar Si era arrivati A un pochissimo Da pensare Che la Palacanestro Fosse scomparsa Per il momento Da quel livello Siamo passati dai mitici Da livelli come Miric Ford Di Eurolega A sperare Che la B1 Ci salvasse Che potessimo accasarci Così è stato Perciò diciamo Che è stato un dramma Perché tanto Un mese prima Si giocava col Barcellona E un mese dopo Si giocava a Riva del Garda Insomma Invece devo dire la verità Con tutto il rispetto Invece sono felice Perché quello che dicevo prima Non saremo mai il sesto uomo Queste sono chiacchiere Per le altre tifoserie Noi siamo il primo uomo Perché noi siamo già 5 mila abbonati Prima che arriva L'idea di un giornale Sotto l'ombrellone Che arriva Zagarunga O Paka Finkos Ed è così Ed è così Perché noi siamo Pesaro Nel bene e nel male E noi abbiamo fame Abbiamo bisogno Abbiamo interesse Abbiamo curiosità Viviamo per questa squadra Come tante altre squadre Di altri sport Siamo una città verace Siamo così E perciò Tu devi sapere dove vieni E devi sapere Che c'è uno storico E che se Anche adesso siamo qua Tutti quanti Io a guardare Facendo il tifo E una volta A far finta Di mettere a posto Il puzzle Che ci ha permesso Di essere tutti qui oggi È stato perché Anche quel momento È stato vissuto Felicemente dai tifosi Che non so Due, tre, quattro mila Abbonamenti Subito Quando ancora si parlava Di cos'è la Serie B C'è la Coppa di Serie B Così poi piano piano Siamo tornati ad essere Quello che siamo oggi Ma velocemente Nel senso Non come è una cosa Che non è mai esistita Noi non siamo mai morti Ci sono squadre Che ancora devono tornare su Dalla Serie B Ma era tutto scontato e facile Adesso però È tutto scontato e facile Retrocedere È quello che non ci si pensa mai Andare in cima alle stelle No? Si dice sempre un attimo Poi le stelle sono sempre lì Portate di mano Senti Octavio L'ultima cosa Sei mai stato in una città Dove la palacanestro È più importante del calcio O comunque il primo sport Del cittadino E questa è la particolarità Forse di Pesaro Eh Ti devo dire Questa è la prima volta Che lo sento così tanto Come qua a Pesaro Io che sono nato in Argentina È una cosa che Mi sciocca un po' Perché In Argentina È calcio 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 E magari un po' Di basket E qua invece Mi ritrovo in una città Che è basket E basket Quindi È la prima volta Ma è bellissimo Allora ti auguriamo Di conoscere ancora meglio Pesaro Siamo contenti Di averti fatto conoscere meglio Ai tifosi della VL Che domenica ti hanno scoperto Come giocatore Finalmente E adesso questa sera Anche come ragazzo Che ci sei piaciuto molto Quindi grazie Grazie per la tua presenza Grazie a Bici Grazie a Bici Non avevo dubbi Che avresti fatto i numeri Stasera Quindi Non mi avete fatto dire niente Sono le 22 e 25 Abbiamo anche sforato Quindi ringrazio anche Giovanni Zida Ultimo aggiornamento Ita Service 63 Bramante 44 E quindi il derby è andato ormai Ringrazio Andrea Sabattini Per la sua puntuale regia Noi ci vediamo Il giovedì prossimo Sperando di raccontarvi Belle cose Buona serata Da più di un secolo sul territorio Macchini ceramiche È sinonimo di professionalità E consulenza specializzata Nella vendita di materiali edili Pavimenti rivestimenti Parchè Ceramiche ed arredo bagno Delle migliori marche Ogni giorno troviamo La migliore soluzione Per ogni vostra esigenza La nostra disponibilità Competenza e servizio Non hanno prezzo Laura e Marco Ti aspettano Presso lo showroom A Rio Salso di Tavuglia Macchini ceramiche Sempre al vostro servizio Qualche volta Mi piace ripensare Alla magia Che avevano i viali del monte Più mi ci perdo Più mi convinco Che ricordare come erano Non è troppo diverso Dal desiderare Che rimangano così Immutati Ma sempre differenti Pronti a rinnovarsi Pronti a rinnovarsi Anzi A crescere Proprio come noi Cercando di trasformare Il nostro presente Nel futuro Siamo al Conad di Montecchio